Perché criticate questo decreto sulle banche popolari? Perché lo strumento usato dal governo è totalmente sproporzionato, un decreto legge che obbliga i primi dieci gruppi bancari sotto forma di banca popolare a trasformarsi automaticamente in S.P.A. solo per essere sopra soglia di un certo totale di attivo di 8 miliardi. Lo strumento usato è assolutamente sbagliato, è una riforma di sistema, di ordinamentare per così dire, quindi avrebbe bisogno di un percorso legislativo più lungo e che avesse il contributo delle forze di opposizione perché la materia è complessa e perché soprattutto gli effetti di questo decreto sono totalmente imprevedibili e non ci sono le dovute cautele. Noi andiamo a rivoluzionare letteralmente il sistema creditizio italiano con un salto nel buio verso il quale non sappiamo quale sarà la prodo finale, con possibili e probabili danni dal punto di vista occupazionale, ci parla già di 20 mila esuberi, dal punto di vista del credito perché queste sono banche che fornivano soprattutto credito anche in momenti recessivi o di crisi di liquidità alle piccole e medie imprese, alle famiglie. La cosa più grave è che si separa la ricchezza accumulata e risparmiata dai territori che l'hanno generata e quindi il potere di gestire i propri risparmi, di sapere come vengono impiegati viene tolto ai loro legittimi proprietari.